Questo fine settimana Città Metropolitana di Firenze ha organizzato l'evento Lo Spirito del Natale nel Parco Mediceo di Pratolino. In questa occasione il parco verrà aperto in via straordinaria sabato 24 e domenica 25 novembre. Ci saranno delle visite guidate, delle passeggiate fotografiche, ci sarà un mercatino di prodotti tutti dedicati al Natale dove sarà possibile acquistare dei regalini a meno 30 giorni dalla festività. Interverranno anche degli attori con la rappresentazione del Babbo Natale, gli Elfi, ovviamente per i bambini con la distribuzione di caramelle e cioccolate e ci saranno anche dei laboratori interessanti sempre per i bambini al primo piano della locanda dove verranno insegnate le tecniche per realizzare piccoli manufatti e natalizi. Per questa occasione in via del tutto eccezionale è stata aperta anche la mostra degli apparati teatrali medicei qui nelle scuderie del Buontalenti. Come Proloco siamo molto contenti e soddisfatti di poter collaborare a questa edizione dello Spirito del Natale. Noi mettiamo a disposizione dei visitatori delle visite guidate e il servizio di accoglienza alla portineria. Ci auguriamo che vengano tanti visitatori a potersi godere questo meraviglioso parco.